Ci sarà bisogno del turno supplementare di ballottaggio per eleggere il nuovo primo cittadino di Manfredonia. Ieri una tornata elettorale speciale per due comuni pugliesi, entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose due anni fa. A Carmiano, nell'eccese, il nuovo sindaco è Gianni Erroi, che ha battuto il suo sfidante Giancarlo Mazzotta per soli 66 voti. Mazzotta era il sindaco della cittadina salentina quando il comune è stato sciolto a dicembre del 2019, mentre Erroi era già assessore e vice sindaco in quella giunta. A Manfredonia, invece, è stato un testa a testa all'ultimo voto tra Gianni Rotice, ex presidente di Confindustria Foggia ed espressione di una coalizione di centrodestra, e l'ex sindaco della città foggiana Gaetano Principe, sostenuto invece da una coalizione di centrosinistra e dal Partito Democratico, che comunque non ha presentato il proprio logo alla tornata elettorale. E Principe ad aver sopravanzato Rotice di circa un centinaio di preferenze, con i due appaiati attorno al 26% di voti, a spiccare comunque il dato dell'affluenza, che ha superato di poco il 61%, un dato però in netta riduzione rispetto alle ultime due tornate elettorali comunali. Finisce terzo, invece, Raffaele Fatone, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e con poco più del 19% delle preferenze, mentre Giulia Fresca arriva al 17%, sostenuta da una coalizione civica. Maria Teresa Valente, con poco più del 6% dei voti, con una coalizione riferibile al presidente della regione emiliano, e sostenuta dall'ex sindaco Angelo Riccardi, chiude la sfida a sei Tommaso Rinaldi, che arriva al 5% delle preferenze e candidato per azione, il Movimento fondato da Calenda. Prossimo appuntamento con le urne sarà allora il 21 novembre, per eleggere il sindaco della città dopo due anni esatti di commissariamento.